E' una scelta non facile quella di decidere di fermare una carriera bella nel momento in cui tutto sta andando bene, però è più importante fissare il bello che abbiamo fatto finora senza rischiare di intaccarlo o vederlo spegnere e sbretonarsi lentamente e allora noi abbiamo fatto questa scelta di chiudere il momento in cui tutti ci direbbero di andare avanti. Oggi abbiamo visto sui giornali con gioia che il nostro Ferdinando Sanzano ha aperto la data di Verona all'arena e l'8 settembre saremo all'arena di Verona e lì sarà l'occasione, spero, mi auguro, ma già molti colleghi ci hanno chiamato, di condividere, di dividere la nostra musica con tanti amici che verranno sul palco con noi perché la musica è proprio bella quando si fa insieme ad altri.